Scuola e lavoro Scuola e lavoro, due realtà che dovrebbero essere in stretta connessione tra loro, ma che troppo spesso sono distanti. La scuola dovrebbe preparare meglio i giovani e facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro. In Italia un esempio virtuoso è costituito dalla Scuola di Scienze Aziendali di Firenze. L'approccio è orientato alla formazione di collaboratori per le imprese in un periodo di 18 mesi, una parte dei quali è dedicata agli stage anche all'estero. La Camera di Commercio di Firenze punta a replicare il successo di una simile realtà attraverso un progetto ambizioso quanto necessario. La creazione di un campus per la formazione aziendale e professionale che ampli e valorizzi l'operato della Scuola di Scienze Aziendali. Dopo 18 mesi fatti in parte in aula hanno delle grandi possibilità di fare stage nelle imprese e addirittura anche all'estero. Infatti questa seconda parte è quella che sta facendo funzionare la scuola. È il fatto che le imprese che impegnano in stage questi ragazzi nel 95% dei casi poi li assumono. Questo vale per le nostre imprese locali, nazionali e anche per quelle internazionali. Nella mission che la Camera di Commercio ha, quella di essere sussidiaria allo sviluppo dell'economia, funge questa funzione. La Scuola di Scienze Aziendali di Firenze, che in 28 anni di vita ha diplomato 2.500 studenti e coinvolto 900 aziende italiane, ha garantito al 90% dei suoi ragazzi un lavoro nel giro di un anno, proprio perché lo stage è una delle forme più utili per far incontrare ai potenziali datori di lavoro i candidati più idonei. Di 18 mesi, 12 di aula, tempo pieno e frequenze obbligatorie e 6 di stage. È più un lavoro che una scuola e infatti la domanda più difficile che facciamo ai nostri futuri studenti, tutti di età variabile fra 18 e 28 anni, è lei fra 18 mesi sarà comunque portato a confrontarsi con il mondo del lavoro, se questo per lei è un elemento di attrattività o no. La domanda sembra incredibile e le risposte sembrano applausi a scrosciare, in realtà le risposte sono talvolta del tutto imprevedibili, provane sia che i nostri docenti migliori sono soprattutto imprenditori e dirigenti d'azienda, cioè persone che magari avranno meno esperienza di insegnamento, ma tanta, tanta, tanta più esperienza di vita della propria impresa. Protagonisti dell'Open Day 2013, tanti imprenditori e dirigenti aziendali, responsabili del personale, ma soprattutto tanti giovani, che hanno raccontato e condiviso la loro esperienza con chi ancora si trova a scegliere il proprio percorso formativo. L'affidabilità sul lavoro, la puntualità e l'impegno. Qualsiasi cosa tu voglia fare nella vita servono queste tre cose e qui le impari, se tieni duro, perché non è semplice, non ti danno scappatoia, non ti danno via d'uscita, però qualsiasi cosa tu voglia fare nella vita, io fra l'altro sono giornalista, ti serve venire qua. Quello che viene premiato non sono tanto le qualità innate, ma sono quelle acquisite. Spirito competitivo e di squadra, ma soprattutto senso di responsabilità. Queste le prime cose che si apprendono appena entrati a far parte della scuola. Dunque non materie astratte e poco legate alla realtà del mondo del lavoro. L'esperienza scolastica mi ha servito più di tutti, anche perché mi ha indirizzato al mondo del lavoro. Vivi un'esperienza completamente diversa rispetto alla classica università. I professori sono sempre presenti alla fine, quindi se hai bisogno di qualcosa sono disponibili. Io sono stata, ho fatto marketing, quindi sono stata all'estero e l'esperienza monica, sono stata in Australia. Grazie. Grazie.